Hola Luchadores e tristi rattristatori di turisti tristini, ben ritrovati dal vostro Silver e dal nostro Silverius e poi in teoria ci dovrebbe essere anche Coso Brutto Brutto che ci segue dappertutto ma sono appena rientrato nel gioco e non so più dove sia, benissimo allora fra il video scorso e il precedente ho fatto una roba fighissima, ho cavalcato un drago figo e niente, l'ho semplicemente atteso che avvenisse ad attaccare le genti le genti si sono ribellate alla sua venuta e io ho spammato la cosa per dominare i draghi eccetera eccetera niente, Coso Brutto non si vede ecco il drago è quello, come vedete anche sull'indicatore non viene segnato come nemico allora direi di andare qua dentro a vedere un pochino come si dipana la cosa del bisnonno che detto così non è una cosa bella ma... meh, va bene così, non stiamo a quisquigliare e pizzigliaccherare sul discorso del bisnonno finché non ne sapremo di più sono curioso di andare a scoprire se sarà una missione sensata, figosa, che ne sarà balsa la pena eccetera e Coso Brutto è Ricomparso, perfetto, fantastico allora, direi che sono quelle cose che potrei fare prima ma mi dimentico puntualmente allora, piega volontaria, lenta tempo ok, va bene forza inesorabile, così a Vanverona proprio perfetto, la mazza di Molag l'abbiamo ripristinata ok no, sei proprio rincoglionito quel vecchio pazzo crede di avere trent'anni di me a furia di ficcare il naso in quella miniera finirà ucciso ma magari diciamo è convinto che vi sia una specie di cospirazione che lega alla compagnia dell'impero orientale e la chiusura della miniera in casa abbiamo trovato delle vecchie lettere del suo bisnonno e lui crede a ogni singola parola e vabbè ma perché probabilmente si è fumato dell'erba pipa e vabbè ma cerca di capirlo vediamo eh, è arrivato appena di girare un terribile incidente rimase ucciso in seguito al crollo di una delle gallerie nessuno riuscì a scendere laggiù per recuperare il cuore la compagnia dell'impero orientale sigillò quella sezione per scongiurare altre tragedie Crescius è convinto che sia tutta una montatura per nascondere qualcos'altro ma io non so cosa pensare vabbè facciamo che che vado innanzitutto a sbirciare un attimino sopra per vedere se c'è qualcosa di interessante delle gran balestre il canto del veleno che non credo ci interessi ah no, mamma mia, gran balestre stavo guardando con l'occhio la scrivania perché ero attratto dal libro ah, era nascosto ah no, sono io che sono nascosto sto rincoglionito, eh sono appena arrivato dal lavoro portate pazienza sono stanco sarà una puntata difficile allora ah, vabbè questi continuano a ciulare roba con debita discrezione qua possiamo attivare qualcosa no non nulla ruota sui suoi cardini ma sì perché tanto guarda non c'ho una cazzarda da fare e mi dispiace che Skyrim stia andando per finendo tu spingi cretino allora sì sì adesso ci provo che bello lasciate lì le monete d'oro arriva gente che ve la ciula minchia se ripi dalla scala nelmo di pelle che funge da caschetto da minatore giusto? un bandana che beh poi mi piacerebbe fare una cosa sbaragnina però la cosa bella che per quanto livelliamo il personaggio quello che conta è comunque sia l'item che che ci fa da bonus quindi non è che più ci potenziamo non è come Dark Souls che più è potente il personaggio può andare in giro in mutande che non cambia la mazza qui c'è comunque una sua certa importanza nella come ci si addoba nell'abbigliamento allora io fra l'altro vai tranquillo bello ah grazie stavo dicendo che io nel frattempo volevo anche ampliare la casa ma mi serve una miriade di pietra estratta che non ricordo da dove minchia si estraga quindi niente non ho ampliato casa così senza imputicizia ve lo dico sono un po' è imbrigliato qui perfetto ok abbiamo ho capito ho capito dove vuoi andare a parare diciamo così tanto tutto fa no ripeto sono sempre io che ho scorreggiato porto impazienza ma ah non ho abbastanza magica neanche per tirare lampadine porca galera va bene qui c'era solo no è solo un braccino va bene così che stai a menà ah uno skiver quanto tempo levati dal belino quanto tempo era che non trovavo uno skiffer eh tantissimo tempo che non si trovavano skiffer là perfetto immagino immagino che veramente ci sia il terrore dei sette mari qua ciao pum fischione e fischione 2 grazie catturiamo animelle piccone come se come se volessimo venderne praticamente ok questo è ruzzolato giù dalle scale è morto di di ruzzolo veramente allora qua non possiamo raccattare nulla io non sento odore di niente non c'è ancora la percezione degli odori per fortuna che immagino che in un luogo abitato da ragni giganti surgelanti eh non sia prettamente una favola notare che come la mia allegra compagnia delle indie non mi stia seguendo ognuno a cacchiacci suoi eh mi raccomando very good very nice fantastico una cosa quasi nuova in style cosa è stato c'è stato un crollo in miniera dai dai non per menare il camper laia eh ma meniamo l'assi per tuguri ok sempre è bellissimo il deidra quando muore è fantastico perché veramente c'è te lo annuncia con dolore e patimento che sta tornando nel suo piano ancestrale e questo può far la gioia di grandi e piccini vabbè la chiave ce l'avevamo perfetto noi da lì siamo giunti ok che uno se lo chiede d'onde giungi d'onde giungi è sempre la solita cosa dal d'onde giungo è citato nella storia del pastore quindi allora ne evochiamo un altro che è sempre comodo mandare una raccoperta anche perché ha il dono dell'arroganza quindi è un po' come il cane pedro questa la capiremo in due ma va bene così ogni tanto c'è qualcosa che deve essere tacciuto se volete scoprire chi è il cane pedro dovete guardarvi il video della torta dark souls sul canale del silver player che lì viene palesemente mostrato il cane pedro cosa sono ah dragor salve qual piacere ti ho fatto solo il fuse la vediamo se riesco a vai così intanto esatto stavo giusto per dirvi sto cercando comunque di livellare spero che non mi faccia saltare tutti i denti sgranandoli vai dopo anche parata potrei livellarla ma non è così essenziale la perfetto nessuna gemma dell'anima abbastanza capiente non l'ho capito era una battuta non è che me la dovete spiegare era semplicemente una battuta e basta eccola ho preso tipo un garontolo su un coppino che ve lo raccomando ok voi avete menato un dragor inquieto sono andato tranquillo perché ho dato per scontato che la trappola non scattasse più e invece sono stato punito per la mia supponenza e suppostanza la perfetto adesso beccatevela voi allora facciamo che dato che le possiamo usare e senza che ho ripulito abbastanza anche il menu eh ve lo dico così eh così vi fate anche un'idea allora direi che possiamo ritornare a questa che nel frattempo diventa da molto forte e niente sono sono veramente confuso non molto felice ma pare che ho confuso ancora certo mi stanno usando come punta skilli ma ho aumentato il mio dremora ma che baffa culizzati qui al buio sto combinando un casino dietro lato veramente si scusami non volevo colpirti non ancora perlomeno ci sarà tempo per fare inemicizie eh vabbè oramai avevo il destino segnato come quando c'è quegli animali della compagnia che purtroppo stanno scioffrendo molto e tocca fargli fare la punturina allora che bello quando li meni così in scioltezza stiamo comunque salendo rapidamente di vari livelli eh nonostante tutto stiamo salendo bene sono contento sto tentennando nel rendere leggendaria l'abilità di scassinamento perché mi sono reso conto di aver fatto un errore quello di vendere i trabicoli i grimaldelli il problema è che adesso andando avanti troviamo serrature abbastanza eh hardwe e purtroppo avendo venduto tanti grimaldelli eh se io rendo l'abilità leggendaria ricomincio da capo il livellamento quindi perderò la come si dice il potenziamento quello che fa sì che io non rompa i grimaldelli quello appena conquistato quindi dovrò riportare l'abilità a 100 nuovamente cosa che fai volentieri perché serve alla fin fine a livellare il personaggio però il problema è che giustamente eh mi servono i grimaldelli perché andrò a romperle allora rifaccio il fondello di grimaldelli e poi la rendo leggendaria a questo punto è stato un errore un peccato veniale cercherò di comunque di tenermi comprati perché comunque abbiamo visto che la scorta che avevamo fatto continuava a crescere nonostante tutto eh che bello scaraventare in giro le genti e di nuovo meno il dremora capisco più niente il mio daltonismo non mi aiuta la eh però dai stiamo andando abbastanza bene in quanto a raccattamento di tesori dai dai così ho timore che mi convenga ricaricarla ricaricarla dove sta esistono poi delle delle armi che non vadano mai più caricate per sempre no ne abbiamo poche di che cazzo sono un po' ecco grazie ero un po' bloccato nel nel vicoletto del cincischino e non riuscivo ad uscirmene belandi va bene ho menato anche il dremora tra l'altro ragazzuoli voi non lo sapete ma non è una stupidaggine è quella di menare gli atronaci dremora e via dicendo perché vale anche quello sapevatelo questa cosa la sapevo ma non ve l'avevo narrata ma vale assolutamente cioè se voi evocate un tizio e lo menate vale sia come bonus evocazione sia come arma una mano due mani e via dicendo perlomeno così funzionava eh ai tempi appunto di di skyrim sulla playstation 3 la prima volta che vi giocai ok continuiamo a tirare scudi debano come se piovesse no te non ci interessi un bello scrignone arduo ecco infatti perderemo anche l'abilità di vedere da dove cominciare i discorsi coi grimaldelli quindi mettiamo conto che ne spaccherei un quintale in una situazione del genere perché perdiamo tutti i bonus di capacitudine senza che non ho neanche reso più facile scassinare le ah la le cose arduo e se no questo sarebbe stato comunque molto più facile anello del cavaliere estremo stivali da edrici polari molto belli oltretutto è la roba da edric è veramente figa va detto di per sé che anche questa qui di talim è veramente sto menando basta sto menando il 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 gorgor morto grazie va bene qui non c'è una cincischia dov'è cosa brutto cosa brutto ah ok si mimetizza col paesaggio eh stronzacchio gemme dell'anima e là vedo roba luminescente che mi piace poco mi toglie veramente la gioia di vivere io rievoco il mio dremora qui di 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 dremora da compagnia notissimo individuo di cui fidarsi poco se non dico se io le pozioni oramai le piglio come se fosse una cosa intelligente è un altro dragur si si esatto ok no non mi interessa qui c'è un interruttore no un libro rovinato qui abbiamo un deposito di starrim che come detto preferirei non pigliare perché è noioso da raccattare perché essendo una pietra c'è del realismo nella cosa però meh il problema è che è dannatamente utile levarlo perché può nascondere un tessoro un fantasticissimo tessoro siccome io sono dotato di aviditudine pietra preziosa ho cominciato anche a venderne ve lo dico qualcuna poca roba però ok ne è valsa la pena la risposta è no mira del gelo campanula mortale gemma dell'anima flottiglia squamosa veleno delle paradisi polvere vampiro un guazzabuglio di roba va bene complimenti molto ordinato devo dire ah c'è un laboratorio d'alchimista da queste parti quindi una lingua di drago uno strumento che non volevo prendere ma tanto ormai l'abbiamo raccattato sali del gelo il ginebra il mucchio di sali alla di falena muschio dell'imperatore non voglio sapere ah grazie non voglio sapere dove gli cresceva il muschio di specifico nell'imperatore va bene ecco ho una missione che mi impone di portare dei sali di fuoco quindi dovremo anche recuperare quelli ho attivato tutte quelle missioni secondarie una miriade veramente una una fortitudine mi sono cacato ma sei scemo sembrano lettori di difesa elettriche lì di clash of plans questo è morto di su è morto di su è morto di noia intanto che aspettava gente dremora scelgo te grazie bello mi sento un po' abbattuto cosa bella è che ho sempre il timore di morire perché voi non lo sapete ma ho fatto una missione quella che vi dicevo della fiala bianca e sono tornato alla cosa dell'aquila rossa lì insomma aspetta poi lo facciamo sono tornato a cosa dell'aquila rossa ed è bastato un solo colpo per uccidermi sono stato one shotato da un rinnegato normalissimo praticamente è stato umiliante allora rimargina ferite grazie dato che là non siamo messi benissimo questa è abbastanza semplice quindi l'apriamo con insomma gioia vediamo un pochino dove ci conduce tu dove ci conduci dove in una stanza a fine a se stessa ci sarà un passaggio segreto siete pronti ad annoiarvi per i prossimi 12 secondi anzi contiamo quanti secondi combattimento combattimento di che tipo che cazzarola c'è di di combattimento che sei scemo cioè me lo indica ma non c'è nessuno ma ah ok no aspetta si era attivato tizio lì perfetto sono quelle cose che ti riempiono di gioia proprio ti prendono gli orifizi e ti rifarciscono di gioia grazie tutto ciò è molto sfaggolante c'ho anche la freccia che vi indica il punto preciso dove si è fatto male il silver ok anzi vi dirò di più intanto apriamo il menu oramai che è la cosa però è l'attività principale di me grazie complimenti per la mira a casa tutti bene sappiamo la cosa paralizzante e non la usiamo come le persone intelligenti sono un po' stufo di raccattarmi roba non basta pesa non vorrei poi dai muorici ma muorici di morte orrenda proprio tra trocci sofferenze contorsioni inconcludenti e concuminanti qualsiasi cosa voglia dire concuminante basta basta veramente basta 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 che è una caraffa volete una caraffa e te ne fate una caraffa le mugne ce ne faccio la caraffa un baule difficile pozione anche la pozione di cammino sull'acqua ah 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 eh ah 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 yuhu mitiguzzo poteva andare peggio non è vero eh le mugne le mugne allora facciamo così dato che eh vabbè aspettateli un momento esatto esatto ho approfittato della vostra assenza per eh far proliferare tutta la mia magicitudine e niente ho praticamente incantato tutti gli oggetti che avevo raccattato fino ad ora liberandomi così sia del peso delle gemme da una parte sia del del documento dettato dal fatto che è roba da poveri invece adesso è roba da ricchi e fantastico vero allora punta di ghiaccio bene così ok niente di trascendentale niente che non potessimo già avere prima di salire però volevo vedere una cosa molto molto buio come dungeon bene mi piace era questa la porta che abbiamo aperto perfetto allora prima di salire vediamo se non do cazzo stava a casca a cascata scusa ma ce l'ho cascato no non devo tirare questo fammi evocare un altro dremor grazie là perfetto vediamo se mi da ancora quel simpaticissimo bug vediamo un pochino no non ci sono combattimenti attivati uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciotto diciannove venti venti secondi passati che strano ah si ok va bene ah ho una cosa per te forse dato che l'ho fatto ci aiuta ci aiuta a spostarci più in fretta volentieri allora hai delle frecce ma non hai un arco giusto perfetto allora ti darò un arco dato che l'abbiamo fatto l'arco debano della paura che fa scappafuggire fra l'altro bellissimo che stesso arco stessa cosa 30 septim di differenza vabbè non posso fargli una colpa e anche delle frecce ti do magari hai ragione anche te frecce te ne do no di ebano no perché sei una brutta persona poi le lasci in giro ti do ti do delle frecce che dovevo avere in gran quantità ma ho venduto pure quelle allora ti do queste d'acciaio dai perfetto si fanne buon uso vai tranquillo faccio strada e poi guardo anche i cantieri sono una persona stupenda quando faccio queste cose allora si di qua vai 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 ok questa la capiranno in pochissimi ma vabbè non vogliatemele troppo quasi comincio a salire grazie non ho notato l'interruttore grazie giusto appunto mi servivano le frecce ma in realtà sto mentendo era una barriera io pensavo che fosse un ponticello da far cascare hai scassato la water te lo dico te lo dico proprio con momento imbalsamazione ossa varie cincischi e pizzi laccheri beh la radice camionola la potrei prendere ancora non esiste un dremora che non muore mai sicuramente ci potrà essere anche questa possibilità ok quanti vicoli e cunicoli perfetto oltretutto io non avendo acceso troppo luce magica e robe simili sicuramente mi sono anche perso delle cose santa paturnia questo sarebbe questo sarebbe fico ah un che di bloodborne questa cosa dai no veramente cacatore di minchia allora questa quindi è una shortcut però ti porta avanti in teoria non indietro ah no ok c'era solo questo baule fantastico di una difficoltà estrema fra l'altro perfetto io che credevo io che pensavo un elevato tasso di inutilità va bene quindi un passaggio segreto neanche tanto segreto sganciare l'alma segreta vado mi tuffo a bomba stranissimo una discesa senza possibilità di ritorno in teoria era curioso vedere da che parte discenderà santo tegame vedo i nonni morti però ecco ti piazzo lì un dremola che non si sa mai allora il esir del vigore che ne ha tanto bisogno ok pensavo che diario spada bodscal scatena una scarica di energia ogni attacco caricato infliggendo 30 punti di danni figata peccato per la spada debolina ma potenziata può essere figosa allora leggi mano della pioggia oggi ho ricevuto una lettera dalla compagnia dell'imperio orientale c'era scritto che alcuni minatori sono riusciti a oltrepassare il muro nella galleria 3 della miniera di roccia di corve e hanno trovato delle rovine spero che non sia un'altra perdita di tempo come quando mi hanno fatto andare a Sirodil alle prime luci dell'alba salperò per la roccia del corvo insieme a Milius il mio assistente sarà bello rivedere la vecchia casa di Solstheim allora facciamo così guarda eh vai tranquillo ha trovato la spada aspetta aspetta avrei dovuto dare ascolto a Milius nel momento esatto in cui si è levato la lama siamo stati attaccati dal lago il mio assistente ha combattuto estremamente ma non ce l'ha fatta sono riuscito a riusciuto a ristruggere quelli che restavano ma sono stato gravemente ferito ma la pena mi leggo in piedi l'unica possibilità ok l'esplorazione è procedente posso camminare per pochi minuti prima di essere costretto a fermare mi sono stato deprovvisto finora l'unico processo è stato trovare una strana porta non ho mai visto di essere qualcosa che mi sfugge come se stessero ostacolando i miei tentativi di comprendere se voglio fare dei passi avanti dovrò studiare approfonditamente anche se ma la pena risco ok sono convinto che l'apertura della porta abbia a che fare con la spada ma quando agito non è una specie di scia mistica perfetto quindi dobbiamo usare la spadazza benissimo allora no non devo aspettare una mazza ma devo equipaggiare la spada che però essendo io una persona molto 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 intelligente ok ok lemong no qua no ma che cazzo roba eh fingerò di aver capito ma eh no silver cosa ti fa pensare che quando non ha funzionato la prima volta avrebbe funzionato una seconda non lo so però vedere che l'indicatore comunque mi mi dice di andare di lì eh hai più ossa del dovuto eh vecchio mio te lo dico no perché magari andiamo magari no eh vabbè uno c'è prova allora di lì non riusciamo andare avanti vediamo se è il caso di tornare d'indrio vaolitudine non ce n'è ce n'è uno qua ok altro una signora tempesta ma adesso ecco posso vendermele tutte queste pergamene dell'evoca l'atronach perché abbiamo il potere magico dello silver wall dell'atronach allora dovrò rileggermi un secondo attimo il diario allora perché c'è qualcosa che mi sfugge dovrò colpire un punto preciso perché l'attacco caricato qui è fuggissimo ma no no è un suggerimento ho capito ma io me ne vorrei di andarmene non riesco ad aprire la porta un aiutino cadavere bruciato per forza stai sopra il fiaccolame farina d'ossa ma immaginavo non per sfiducia oro oro tutti pieni d'oro siete tutti pieni d'oro senza pudore ne ritegno alcuno allora questa cosa è fatta apposta per far sì che tu non possa tornare indietro in maniera consona quindi ah ecco vaffanbrodo mannaggia sì mannaggia i pupazzi non cambia non cambia una mazza ma si già il fatto che mi suggerisci di procedere la dice lunga sul fatto che hai capito tutto una piccozzella quindi devo desumere che tutti abbiano provato a piccozzarsela ti ho scassato il cadavere del nonno ah no aspetta ok aspetta lì allora why because don't fa l'attacco orizzontale di nuovo giovane gli da l'input fino a un certo punto difenditi ti tiro un simpatico offendente no vabbè dobbiamo recuperare vigore benissimo meraviglioso meraviglioso non vedevo l'ora di rimanere bloccato qui e di non capire come cazzarola andarmene ma ci riuscirò ci riuscirò do ancora un secondo una perlustrata al luogo magari salendo qui dall'alto e cercando di capire per quale motivo eh io lì sopra non ci posso dannare le porte in sé aprono ok ok no perfetto no che me la mazza ma devo ammazzare qualcuno qualcosa porca miseria vabbè luce d'ora si indagherò a fattacci miei cercherò di uscire dal tugurio da cui uscivano le uova e nel prossimo episodio dopo che avrò magari ragionato sul da farsi vi farò sapere come è andata a finire se volete scoprire com'è il Silverius riuscirà a levarsi dai gangheri qui prossimo video non c'è altra soluzione alla prossima ciao ciao